Ciao ragazzi, bentornati, bentornati in un nuovo video, bentornati sempre qui su MV Hardware con il vostro Marco Verdoliva, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché non posso vedere che su 4-5 mila visualizzazioni solo il 10% di voi è iscritto al canale. Datemi una mano, soprattutto giù in descrizione trovate i link per seguirmi sugli altri social, tra cui anche Facebook, il nostro gruppo Facebook, Telegram con il gruppo e il canale Offerte, MV Hardware Offerte. Allora, per chi non se ne fosse accorto, e penso che siamo in tanti che non ce ne siamo accorti, ieri hanno lanciato, è stato il Day One, per quanto riguarda le RTX 3070, che molte persone stavano aspettando. Ed è emblematico come Nvidia sul suo sito scriva GeForce RTX 3070 la giocata definitiva. Io, più che giocata definitiva, la definirei la pagliacciata definitiva, perché continuo in un nuovo video a trattare sempre lo stesso argomento, anche se ormai l'abbiamo capito. Così come è stato fino ad oggi, fino a ieri, per le RTX 3080 e per le 3090, si è confermato che anche per le 3070 lo shortage è ovunque. Le schede non ci sono, nessuno, quasi nessuno, è riuscito a comprare le 3070 ieri. E basta farci un giro, come al solito, sulla maggior parte degli store, tra cui i più importanti, Amazon.com, riferimento Amazon mondiale, dove non c'è nemmeno un'inserzione, né un preordine di una 3070. In Italia, ovviamente, peggio ancora, dove su Amazon Italia non c'è niente, e così anche su Amazon tedesco, francese, eccetera, eccetera. Qualche sito ha qualche pallida prevendita, come ad esempio Next, dove le schede non sono disponibili, ma si possono preordinare. Su Draco, che in questi giorni ci ha aggiornato, anche tramite social, tramite le sue storie su YouTube e su Instagram, poche schede c'erano, sono andate via subito. E come potete vedere, per i preordini, siamo al 31 di dicembre, primo gennaio, con probabilmente l'evasione degli ordini, che saranno, c'è una zanzara, scusatemi, l'evasione degli ordini, che probabilmente sarà a gennaio. E addirittura alcuni store, come Syspack, Computer Italia, che sono degli store seri, parliamo comunque di realtà, che in Italia si danno da fare, scrivono, purtroppo per il lancio delle 3070 non abbiamo ricevuto schede e non sappiamo quando arrivano. Vista la situazione, fino a quando non avremo certezze da parte di Nvidia o Asus, non prenderemo preordini. E questo mi sembra un po' la chiusura, diciamo, generale della situazione, che probabilmente si risolverà a gennaio, febbraio. Con l'arrivo si pensa sul mercato delle schede, se e quando forse probabilmente sarà, si passerà a TSMC a 7 nanometri, potremo vedere una quantità di schede maggiore, però purtroppo la situazione è ovviamente questa. Nel video precedente, dove abbiamo parlato un po' a caldo della presentazione di AMD riguardo le navi, io mi sono un po' esposto intitolandolo RIP NVIDIA. E molti di voi mi hanno scritto, sono stati d'accordo in generale, addirittura sulla pagina Facebook di NVIDIA Italia, c'è in corso da diverse ore, da stamattina, quasi una vera e propria shitstorm, ok? Di commenti e addirittura anche insulti per questa situazione e le schede che non ci sono. Ebbene, ovviamente, io ci tenevo a precisare che al di là del momento particolarmente euforico della fine presentazione, è ovvio che qui stiamo parlando di una competizione di schede che dal punto di vista prestazionale se le suonano di santa ragione. Quindi, occhio, le schede AMD vanno forti e probabilmente saranno all'altezza di poter competere con l'RTX, ma comunque ci sono tutta una serie di cose ancora da vedere. Nel senso, c'è il discorso dell'RTX o per meglio dire del DXR, che sarebbe la tecnologia sviluppata da AMD sulla base delle nuove DirectX per sfruttare il ray tracing. C'è poi la questione del DLSS, che è pure una futures che Nvidia, diciamo, dal canto suo promuove come una delle cose migliori del pacchetto Nvidia, sicuramente. Dall'altro canto AMD ci ha fatto vedere che con i nuovi Ryzen che usciranno sul mercato le prestazioni saranno notevoli. Insomma, è difficile dare per spacciata una o l'altra o dire ha vinto una, ha vinto l'altra. Ma il mio voler prendere così in malo modo Nvidia dicendo RIP è soprattutto e per gran parte relativi alla questione che oggi potere di acquisto sull'Nvidia zero. Cioè una persona oggi che vuole scegliere se acquistare una 3070, una 3080 o eventualmente una AMD non ha molte scelte perché queste schede in realtà, come abbiamo detto più volte, non ci sono sul mercato. E quindi il problema fondamentale di Nvidia è che in questo momento e nelle prossime settimane, quando queste schede AMD con la 6900 XT, che ragazzi va quanto una 3090, arriveranno sul mercato, e c'è la possibilità, c'è la possibilità reale che tantissime persone che aspettavano da mesi e che magari hanno build lì pronte su cui montare solo una GPU, annullino gli ordini dell'RTX e vadino su AMD. Quindi, che comunque si prospettano schede molto potenti. E' lì che Nvidia in questo momento sta perdendo la partita. Non tanto dal punto di vista prestazionale, non tanto dal punto di vista delle futures che queste schede offrono, ma dal punto di vista che le schede non ci sono proprio. Poi, ovviamente, c'è da vedere se la disponibilità dell'RTX al lancio non sarà anche lì limitata, ma io ne dubito. Il mio dubbio sicuramente è che le RTX prima di gennaio-febbraio sul mercato non le vedremo tanto facilmente. Questa è la verità. Bene, fatemi sapere come sempre voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ditemi la vostra e fatemi sapere se voi già vi siete fatto un'idea su annullare o meno eventuali preordini dell'RTX per lanciarvi sulle navi. Fatemi sapere se siete riusciti a trovare una 3070 o altre schede. E ovviamente iscrivetemi su Telegram, sul mio gruppo MV Hardware, il canale Offerte, MV Hardware Offerte, su tutti i vari social. Ok? Noi ci aggiorniamo, ragazzi. Vi faccio sapere nei prossimi video se qualcosa cambia e sicuramente continueremo a parlare di questa situazione. Ok? Grazie per essere stati qui con me. Noi ci vediamo in un prossimo video e vi auguro buon weekend. Ciao!